io mentre ti aspetto affetto della gente io scusami me non lo sapevo come oh no che rivista che ci sono quelli rossi ma porca troia cosa è successo ma è veramente il gabibbo hai ucciso ma che le uccisi due le uccisi due guarda che ce n'è un altro con quelle chiappette tutte e che vi non è arrivato alla fine allora c'è il punto verde dove c'è kelvin è lì che dobbiamo andare sai che non mi ricordo più da che parte dobbiamo andare non dobbiamo andare dietro la montagna no siamo già dietro la montagna i due punti verdi siamo matti quelli si lungo la costa intendi va bene andiamo cibo nuovo gatto buone sì ma gatto dove siamo bellissimo il wyoming c'hai un il bob vai secondo me sì e vai gatto io non ce l'ho come no certo te l'abbiamo fatto l'ultima volta c'è il giubbotto il rampino giusto ma no ma scusa abbiamo il bob il rampino gatto secondo me non ci prende fino a lì sotto ci ha preso ma dritto non ci ha preso ancora sull'albero e non ci arriva aspetta forse riesco da ad acchiapparlo a metà strada tipo bar che cade muore guarda che cade muore l'ho perso non so dove l'ho attaccato vabbè vai cazzo dai vieni qua dove sei tira fuori ma a scusa già giusto eccolo spazio e clic sinistro ok ma prima io vai prima tu vai per così ti vedo sei vivo o rimbalzato malissimo arrivo sono vivo non mi in testa post a ma proprio annullato il danno da caduta va bene e chi l'ha detto che il bob è solo una cosa estiva invernale scusami ma di nuovo ma dove siamo finiti e siamo sempre nel wyoming è successo a everwood ok è pieno di gente via via tantissimo è pesa kelvin che ci ha perso otto ore fa e ci sta ancora camminando dietro micchia che era un canto gregoriano e non era così forte ok perché ho detto ma donna un figlio più dov'era una cornacca e fatte era proprio basta si si secco o cazzo c'è gente bello però loro vivono in spiaggia ma sono tantissimi e lost via domus cazzo i sassi diamo via passi lunghi e ben distesi balestra ma no no lasciamo perdere rischiamo solo di fare casine perdere l'armatura è vero che per l'armatura d'oro è però quella mi fa perdere vita però hai ragione meglio di niente meglio piuttosto cosa ho detto cosa hai detto meglio di niente meglio piuttosto perché è sbagliato perché piuttosto che niente meglio piuttosto meglio che niente piuttosto non so neanche dire ho sbagliato non riesco fa caldo oggi c'erano 20 gradi a torino tantissimo sono riuscito con un sifo sono tornato sudato che cazzo sono quei totem li bellissimi oh vero adesso ci avviciniamo c'è gente morta c'è un golf cart quando c'è il golf cart è trama ce ne sono diversi golf cart quindi un sacco di trama ma è una cosa di atterraggio degli elicotteri questa allora perché molto gatto no per dire più aprire piume a posto è molto piccola secondo me un elicottero qui con i pali uno di quegli elicotteri che decolla dall'acqua credo esistano sì quell'elicottero non esiste con i gommoni ce l'ho in testa quindi l'elicottero sì con gli elicotteri piccolini però sì ho un'immagine abbastanza chiara mi fido mi fido alcuni suoni che sono un po troppo bassi rispetto ad altri mi sa che mi sia cosa che non sono sincronizzati tra di noi beh il cacchio dai quando alcune cose sono sincronizzati ma non il tipo oh madonna santa il pipistrello è scriptato nel senso che quando superi una certa cosa suona è un allarme ma dici che lui si è ammazzato con il trapano o si è difeso col trapano perché ha il sangue nel trapano c'era il trapano anche prima sai quindi lordici si è l'unica loro arma poverini sono operai offro io c'è una tessera magnetica sì ah mi hai usato l'ultima ottimo ok serve una luce non vedo niente cat ecco qua di lì c'è della cacca quindi direi di no mamma mia che cambio di audio c'è della musica sì oh che scatti anche a te sì 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 no qui non va è un locale caldaie quello è molto inquietante prego prego vai avanti tu sono back rooms quindi veramente palesemente perché dirà forse no non dirmi che bisogna andare sott'acqua aspetta 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 che c'è una stanza no no bisogna non bisogna non bisogna no peccato ti capita mai di sbagliare non prendere una porta no veramente no spessissimo ti sono pieno di porte se non mi calpisti le cose magari calpisti ma non ho capito ma sei venuto qui a farmi una lezione di logopedia no parla bene però pieno di sburro dappertutto mi fa un po schifo che schifo gatto questa scena horror sì ma pochi non è però del 96 no ma sarebbe horror se fosse una stanza completamente buia ci fosse solo quello invece è uno stanzione gigante tutto bianco e con il coniglietto va bene po a caso non so bene ma c'è il perri c'è il perri c'è la parata c'è no premi due volte la parata ma l'abbiamo scoperto a fine gioco ma vabbè quando mai qualcuno ci ha attaccato con un'arma in realtà pochissime volte ultimamente ci avevano dei femori in mano sì però ci spruzzavano anche tanto sbu sintetico sangue sarà sintetico anche questo vai avanti tu che ti guardo ma conviene andare senza aver dormito senza aver fatto la base fuori ma sì siamo mai morti sì però cos'è una serra questa è sembrerebbe oppure c'era qualcosa che non doveva scappare da lì della terra tipo al flight dove andiamo dove andiamo è di quasi continua tra virgolette dovrebbe essere sicuro perché sembra proprio di là che si continua e però c'è una porta super luminosa e allora andiamo prima di là ok cazzo però anche di qua sembra bello continuare che qua c'è museo roba è un mato il museo guarda 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 che ci sono tutte ci sono i quadri sì con questo monolite al cubo e il cubo si parlavano si esatto l'albero olografico cazzo ma sono rappresentazioni del che palle quando mettono gatto io odio quando mettono dieci quadri importanti ma sono tre che si ripetono mettine tre guarda qui questo 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 è vero quello che è quello lì però questi qui sono diversi ah no eccolo qua anche questo ma che fastidio ma perché diverso però anche questo grazie a dio e possiamo metterne un po di meno appunto c'è della musica strana eh sì gatto aspetta andiamo di là prima che vuoi fare non lo so guarda vieni da un'occhiata qui secondo te si prosegue di qua non ne ho idea però sembra importante no oddio è un bar c'è un bar c'è uno impiccato no di quasi prosegue andiamo di là prima quello schermo giga mega gatto madonna sarebbe bello ce lo facciamo nel prossimo ufficio solo quello però aziende di televisori sponsorizzateci faccio la review se volete un televisore 100 pollici laser ci siamo mi fanno un po cagare sai quelli laser adesso mi sono rovinato tutti prego andiamo oh mamma che cazzo è è una stanza però a uno specchio per ballare questo è per la danza e ci sono anche le scarpine da danza quindi questa è la stanza di una bambina possiamo salvare dormire che culo mamma mia è dormire non ci serve salvare salviamo benissimo ci sono anche la scarpe vero la stanza della marcuzzi le scarpine sono un po piccoline di quando era piccola magari però più che altro no piccolino e non mi sembrano così piccole sono uguale al mio piede a me sembra tutto piccolo guarda la scrivania altezza ginocchia la seggiola piccola a me sembra una stanza di una bambina anche se è l'unica stanza l'unica proprio l'unica ci sono altre porte quindi chissà però in effetti ancora dobbiamo capire cosa cazzo è successo nella cinematica dell'altra volta sì c'era della gente che poi è sparita hai ragione è sparita senza dire una parola hanno ucciso una belva siamo entrati ci siamo buttati allo sbaraglio anche noi e sì allora bello e bello di qua ci sono dei vestiti per lei vai pigiama oh aspetta il libro soccorsi eric leblanc ma è quello dell'altro gioco tv survival expert quinta edizione come l'unico sopravvissuto di uno schianto dell'aereo bla bla vabbè così ti preparo a mi hai tirato addosso prendo tutti i soldi e le munizioni c'è non fuci la popa lì te lo sputo granate ci sta dando un sacco di munizioni di vita gatto qui ci divertiamo è guarda che gli esperti dicono che mescolare vino e farmaci fa benissimo va bene mi fido con il mortaio esperti esperti gli esperti lo dicono gli esperti si può salvare io salvo aspetta guarda crosses burn demon è una roba indecifrabile a ok ce l'ha detto a fine gioco benissimo chi sono i demoni che possiamo bruciare con le croci e credo un tipo di nemici o tutti i nemici non lo so forse quelli che troviamo qui e basta il fatto che comunque ci siano dei nemici che si possono bruciare con le croci già mi fa presagire male della trama o mai era una stronzata e no gatto qualcosa ha sradicato il bagno ho esploso un tubo ho esplosuto dici una valvolina però guarda la sassaiola qui come rimasta in bilico non riesco aspetta sto facendo il bagno si è pollaiato chissà ma gatto mi sa che dobbiamo andare proprio di là eh io pensavo fosse un muro eh sì è vero sì è vapore oh mamma ci infiliamo nel fumo vai venti tu vai venti tu no 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 perca miseria ma che bello il fumo però eh possiamo spendere due minuti a guardarlo verissimo verissimo ma vado eh oh no c'è una grotta ostia una grotta con una porta misteriosa è la porta che c'era nel primo ah sì serve una mano gatto non basta la mia ce l'ho guarda metto la mia metto la mia hai la tua mano ok serve la mia mano sono il prescelto carim bravo gatto vai tu allora io sto qua no io sono in live vai vatti tu come tiro fuori la torcia buona dai ma metti anche tu la torcia buona va là ah eccola qua è un tubo eccoci qua poi si scarica e la cambia da solo carim oh c'è una luce no è lava c'è la lava bellissimo e la lava si metti le mani a coppetta no no è vero fa anche il rumore di lava senti non siamo così tanto in profondità gatto sì ma non serve essere in profondità per avere la lava scusa ma arriva da sopra c'è da dove arriva scusa ma magari siamo di fianco cioè c'è l'etana eravamo quasi in spiaggia eravamo magari c'è un tubo di lava e si è rotto perdita ma è pieno qua oh madonna ma siamo le terme che bello voglio tornare le terme adesso ma queste è stato bello rilaxing a parte tiktok è stato bello rilaxing quest'anno li facciamo noi va bene che cazzo visto gatto cosa hai visto allora magari è stata la mia immaginazione che c'è un po di fumo il raggio della luce e gli schizzi però mi è sembrato di vedere una specie di polipo ctuliano che correva nella lava giù di là ma magari ripeto è stato un effetto ottico mi sembrava proprio il cugino it però fatto di tentacoli io spero che fosse una tua allucinazione è molto probabile però visto quello quindi boh ha preso troppi antidolorifici ecco il vino che fanno benissimo per la testa pesce crudo nello zaino e via momento croce è che comunque forse forse anche solo uno slottino veloce a metto vai numero 6 io non so più che slotto liberi è infatti allora ci sono i mostri questa scena mi ricorda qualcosa che gioco il finale di blu horizon aspetta che vado vado cosa faccia le gambe dietro che rim questi sono quelli di mad max è morto madonna ma quanto si vuole no io non mi fido tira fuori il crocifisso ha bruciato no è finito nella lava giuro ha si è illuminata la croce a si è finito nella lava va non era una coincidenza può essere è bruciato prima dicono ma allora è stato prima ma mi voglio fidare è bruciato si allontanava no no ma andiamo entrambi full croce dai è ok c'è gente vale retro e non c'è per il momento in cui gli faccio la mossa e poi si ferma e non non è molto utile sta roba ti ho capito va ok ma di qua dovevamo scendere gatto siamo scesi giù merda e adesso sembra che si debba problema è che chiaramente dobbiamo passare oltre ci provo mamma mia bravissimo ma basta con ste gambe tutte molli si si dura un istante dura veramente una merda poi non fa suoni non fa terribile non si capisce ecco qua ma dove dobbiamo andare aspetta facciamo giro gatto facciamo giro vieni sì perché qua ci bruciamo tutto dove sei ah ah di là bello di qua cube activate every 8 cicli cicli lunari che cos'è la luna quella o la lavatrice può essere no anche la mortenera sembra anche sì però la mortenera non hai cicli e la lavatrice sì quindi è più probabile hai ragione bravissimo quante cose imparo con te gatto tutto finito quanta gente vabbè ma quante persone scusami va bene tutto ma quanta cazzo di gente c'era in quest'isola perché abbiamo visto che i mostri erano persone che si sono trasformate questi sono scheletri però eh è ok sì però non credo siano addobbi di natale di carnevale di carnevale di aldowin è possibile che questa gente fosse qua da molto 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 prima di tutto il villaggio vacanze scusami avevano le corde d'arrampicata per impiccarsi il neandertal parte del fatto che è un tubo per l'acqua non è una corda questa cosa che è gigante vabbè ma quanti vengono giù poi non abbiamo provato niente oh guarda 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 allora c'è il cubo stay in the cube che era quello che diceva anche l'altra volta stai nel cubo stai nel cubo esatto che mi hanno detto che era hypercube out demonia la croce quello che vogliamo dire è sempre la solita roba è che la croce fa l'attivazione vocale auto demonia metà latino vedrà sì sì aia c'è uno me lo croci me lo croci se l'ho crociato non ho fatto in tempo però è andato te vedi che va a terra terra perché lo meno è morto è morto certo che tutta sta parte veramente in accesso anticipato e c'è ma neanche come no c'è tutto blu 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 no 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 io do il fuoco a lui dietro a lui dici non l'ambiente pensavo parlassi dell'ambientazione ok questo potevo affettarlo mi è sparito niente non posso no niente ma che palle perché perché lo brucio dice che ha bruciato la pelle conciata viene male stavo pensando però io vorrei salvare come facciamo ma in mezzo ai nemici dai vai mezzini mi o madonna effettivamente è una porta quello un'altra grotta sembra che sembra una porta no mi sa che un muro è sai che cos'è quel materiale che hanno trovato però però mi sa che di quasi ci leviamo anche dai quindi questo signore in pigiama con della pelle umana sulle scarpe chissà nell'isola dove siamo bella domanda e secondo me verso il centro perché magari a questo punto è un vulcano solo che è spento c'è l'acqua sopra sei sparito con un portatile con un countdown si è chiusa la porta lo vedo lo vedo anch'io è il cubo siamo entrati nel cubo dentro il cubo si non abbiamo salvato ma è arrivata anche la marcuzzi ma è uno rimasto chiuso fuori però quindi 14 secondi 13 12 lo butta perché lo butta ma è matto a tu sei più indietro e sono più indietro sì sembra una specie di spazio tempo modificato no gatto non ha idea gli alieni è veramente doom o gli alieni o non so la scusa siamo sulla luna non è luna perché c'è la terra e la luna lì e siamo sicuro che sia la luna e la terra sembra siamo su un pianeta alieno e c'erano i demoni e chiaramente doom la musica è importante ma che è sta gente che cazzo e si richiude mamma ma quindi il cubo da su altri mondi oh no che schifo il blob ma io voglio sapere chi sono queste persone quella destra è timmi come come timmi ma timmi del ma kelvin c'è raggiunto i kelvin e la marcuzzi che però sta malissimo gatto ma io non ho la marcuzzi mi ha morta tra le braccia la marcuzzi a me no gatto io ho un'altra cinematic non ho la marcuzzi come mi ha appena morta tra le braccia la marcuzzi a me no io ho il tizio coi baffi coi capelli bianchi e mi ti dice o vieni nell'elicottero oppure torni indietro e e adesso adesso sono dietro di te sono dietro di te adesso sono all'elicottero anch'io mi vedi no non ti vedo come ma ti sei appena girato verso di me aspetta 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 che arrivo eh adesso ti poppo di fianco eccomi ma tu che cosa io non ce l'avevo lei sai cos'è questo punto esclamativo arancione e secondo me qua rimaniamo sull'isola il punto esclamativo rimaniamo sull'isola l'elicottero andiamo via provo a avvicinarmi senza toccarlo e resta lì tu è uno zaino e secondo me vuol dire proprio rimanere qua eh sì perché io ho ancora lo zaino devi recuperare lo zaino quanto ho visto in multi dipende da chi tocca cosa durante il gameplay veramente ah chi tocca cosa per il finale la marcuzzi la vede solo lost perché a me allora è arrivata ti spiego mi è arrivata la marcuzzi tra le braccia l'ho abbracciata e ha chiuso gli occhi e basta sì ma non si è capito un cazzo gatto eh no no di niente non si è capito nulla cioè si è capito che c'è sto cubo che forse ti porta ad un'altra realtà secondo me il cubo ti porta su altri mondi però quindi quindi allora c'è qualcuno che ehm prima ha fatto uno spoiler gigante che grazie a dio tu non hai letto perfetto praticamente i tizi che della cinematic quella famosa che non avevamo capito erano timmy e il padre ma come cazzo fanno a saperlo che sono timmy e il padre scusami esatto e soprattutto come cazzo sono cicciati fuori quindi lui loro due non sono loro due eh mi sa che sono proprio loro due invece sono timmy e il padre io non me lo ricordo il padre kelvin stava bene da me però è sparito io non avevo kelvin non avevo né kelvin né lei io avevo solo lui sì sono loro sì ma ha confermato come che sono loro perdona con la cinematic finale che vedremo perché anche originale voi non avete mai visto il finale completo l'hanno patchato una volta usciti dall'early access perché timmy nel finale del primo si vede che nella sua cameretta vede una mappa del sito b che è quest'isola come è kelvin ho capito ma non è una è arrivato kelvin ecco qua ma non è una garanzia comunque dai com'è contento kelvin aprite la mappa non me la apre e non me la apre no dove va kelvin perché per aprire la mappa dobbiamo prendere lo zaino lo zaino è certo ehhh beh quindi abbiamo finito andiamo in elicottero ma succederà qualcosa vabbè gatto vai andiamo si vede nel trailer adulto vabbè quindi quello lì siamo noi del primo gioco si noi eravamo il padre eh non è questo signor ma la marcuzzi non è morta quindi io ho kelvin non ce l'ho la marcuzzi no due kelvin uno è rimasto sotto e l'altro è salito sull'elicottero ma dai ma che monnezza e ma io tra ecco il kelvin che sta morendo io di fianco a me la marcuzzi tra me e te no tu non ci sei perché mi dorme addosso perché che perché si prende ma che sta succedendo si prende queste libertà ma è finito allora 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 cioè ma che cazzo il cubo si attiva ogni tot e trasforma tutti quelli che sono fuori in demoni ma dove l'avete letta sta roba ragazzi chi l'ha detto noi abbiamo letto tutti beh forse abbiamo saltato un paio di punti ho capito ma tutto c'era una informazione bella e importante però un punto di interesse abbiamo saltato abbiamo saltato abbiamo saltato un po' di trama eh ma noi abbiamo seguito tutto eh abbiamo letto tutti i fogli tutti i libri tutti i quadri abbiamo visto tutto quello che noi abbiamo visto insomma aspetta che magari c'è un after credits questo spiega il timer sul portatile sì che tra l'altro c'è fare una cinematica dove c'erano 8 npc muta e veramente da stronzi nessuno parlava Tim mi aveva in mano un pc con un countdown al termine del quale tutti quelli rimasti fuori del cubo si sono trasformati in demoni ma che ne sai cioè come fai a sapere che gli si sono trasformati in demoni praticamente ce ne è rimasto uno fuori quando siamo entrati nel cubo e si è trasformato in demone cioè ti ricordi il blob ah era il blob ok però sì però ma perché me lo stai spiegando eh infatti perché io l'ho vista come mi apre altri mondi e in quel mondo lì c'era quel ciccione non il foglietto diceva di stare dentro il cubo ho capito ma anche quello vuol dire tutto vuol dire niente cioè stiamo collegando delle cose un po' troppo eh eh la cosa del cubo è molto figa però madonna non hanno spiegato cioè non solo non hanno spiegato niente ma hanno aggiunto 3.000 cose tutte in un secondo eh quello era tutto a cazzo alla fine c'è un foglio che spiega sta cosa che quelli vicini al cubo quando si chiude vengono trasformati però non puoi mettermi un foglietto per queste cose così eh oh comunque ci siamo portati a casa Kelvin eh sì e due uno l'ho lasciato nell'isola da me attenzione qui niente no mi butta fuori e basta oh madonna nooo tra tre ore c'è un update dici che aggiungono roba è vero è boh ehm no più che altro hanno messo tanta carne al fuoco cioè va bene che early access allora a sto punto guarda a costo di farmi incazzare sì non lo mettere il finale sì se è early access non lo mettere il finale sono due le botte di trama che ci hanno dato il cubo che si teletrasporta in pianeti e costellazioni sistemi alieni e il fatto che siano demoni che bruciano con le croci sono due cose diametralmente opposte in una trama cioè cosa vuol dire che ci sono i demoni che bruciano con le croci classici demoni anticristiani e poi ci sono le città futurismo esatto che ti porti in un altro mondo il cubo due aziende si contenevano l'isola e sono contesi anche l'isola 2 l'azienda che non ha comprato l'isola 1 ha comprato l'isola 2 per continuare ricerche su questo cubo che altro non è che una macchina spazio temporale verso altri universi e chi vi resta fuori subisce mutazioni ma ma tutto il resto del mondo e infatti quello che subisce mutazioni c'è un range intorno al cubo e perché la marcuzzi aveva tre gambe e tre braccia perché non si è trasformata del tutto lei anche allora c'è un problema anche di cioè tutta la missione era trovare i paftons no? e noi li abbiamo trovati e li abbiamo sì ma non c'è stata una cinematica abbiamo visto due persone in smoking che ci hanno attaccato e li abbiamo massacrati poi abbiamo letto che erano loro ma la storia è finita lì cioè è finita così a Tarlucevino e li abbiamo massacrato due e basta è finita Tarlucevino l'abbiamo ammazzato della gente no no certo certo però boh era un po' un po' così un po' leggerino no più che altro sarebbe veramente da figli di puttana mettere questo in finale e invece di ampliarlo cambiarlo completamente esatto farlo simile ma completamente diverso tolgono il cubo se si vede il finale completo dell'1 si vede Timmy affacciato a una città che sembra proprio quella che si vede oltre il cubo andiamo a vedere vado a vedere questo tocca andare a vedere su youtube eh se poi ci mettiamo che noi abbiamo giocato anche la versione sbagliata del finale dell'1 vuol dire che proprio noi non capiremo mai niente best ending vai è vero c'era uno che ci ha stordito a inizio gioco è vero con la giacca di stagnola che troviamo nella cazzo in del laboratorio è vero boh mai più visto quel signore lì che ricordi mamma mia era così brutto o loro lo stanno giocando a modalità merda no era così veramente così poco renderizzata l'ascia cazzarola e qua facevano cascare l'aereo giusto sì anche qua non hanno spiegato che cazzo era questa roba qua hanno spiegato poco hanno spiegato poco cioè hanno spiegato la storia dell'isola le cose l'azienda però veramente poco il resto erano pitturati di rosso perché se ti pitturavi di rosso non ti attaccavano è vero ecco adesso loro con questo sistema fa buttare giù l'aereo ed era uguale eh era uguale uguale a quello che abbiamo fatto noi questo sì esatto poi avevamo timi nello show televisivo sì che aveva le convulsioni dopo che ne abbiamo fatto vedere che usavamo l'ascia sì che anche lì lui ha le convulsioni ma poi cosa a cosa hanno portato le convulsioni esattamente perché adesso vedremo qua ecco qua c'è questo raggio alieno è un amp gigante praticamente che poi per scappare abbiamo ucciso un altro aereo spiegami un attimo perché questo non lo usi per andare via poi e questo adesso parte lo show televisivo un anno dopo e questi siamo noi il tipo con la stagione il mostro che trovate quando uscite dal cubo un attimo prima avete potuto entrare anche lui ma non ci era riuscito che poi è diventato il blob va benissimo però era talmente veloce la cinematic che che cazzo non si è capito niente eccolo è il libro che abbiamo trovato ma eccolo il libro l'avevamo intuito che allora il libro è nostro sì ma l'avevamo intuito l'avevo detto io prima e no qualcuno ha detto che il libro è di quello dell'aereo che è caduto che abbiamo fatto vedere noi no 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 vabbè siamo noi che poi faccio una dimostrazione di abbattere l'albero perché che palle con timmy che ha problemi gravissimi ah vedi l'ha preparato anche lui perfetto che show che è? ptsd mio dio ma non me lo ricordavo così di gomma sì sì era così io non me lo ricordavo così brutto si trasformasse esatto e questo era finito per noi ah vedi c'è un altro pezzo è zitto però mi sa che noi finiva prima io mi ero dimenticato di sta cicatrice però no zero abbiamo giocato dieci anni fa l'abbiamo giocato ok forse questo l'abbiamo visto non mi ricordo no ok vedi è finito no c'è ancora a voi finiva prima a noi finiva prima addirittura del prima dell'abbraccio di lui che si risvegliava ok ok questo non l'abbiamo visto da qui siamo blind sì oh mamma mia lo specchio che non è uno specchio ma è tipo una telecamera e vai questo è timmy perché ha la cicatrice sì ed è identico al padre non so se ti ricordi il padre com'era eh non mi ricordo ma che merda dove vive e il college no credo che sia ubriacone perché vedi il sito 2 ah sito 2 ok ma la mappa è la stessa che abbiamo giocato noi sai che non mi sono fatto a casa e la forma è quella quindi lui è attaccato la bottiglia per via dei suoi traumi oh mamma le bolle le blo ma non mi sembra la stessa città no ragazzi è una città normalissima aspetta ma a meno che non cambia l'ultimo ah ma che ricambia sì si senti la musica che sale non è che mo c'è un altro finale no ragazzi no 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 non è per niente quella città no no ma zero a più finali sons of the forest e che qua come beh non lo so vado a vedere tutti i finali in sons of the forest ah serviva la natura d'oro ah l'armatura serviva per entrare che culo che culo ma noi abbiamo trovato crocifisso e armatura prima del finale che culo gatto perché se non arrivavamo lì non potevamo aprire la porta non potevamo aprire la porta no vabbè il crocifisso non era essenziale ecco quello di chi è e io avevo questo finale qua avevo allora io avevo entrambi ecco questo qua è quello che ho io ma che aveva solo la cazzi si cambia solo chi c'è con te nel cubo questo mi è successo questo e questo è quello che è successo a me eh niente quindi praticamente abbiamo fatto entrambi i finali io spiegato esattamente ne mancava uno ma boh e insomma hanno appena aggiunto dei boss no veramente new demon boss to the end of fell caves vuoi farlo? ce lo lasciamo? dai mi tirerebbe il culo non provare cioè proprio adesso beh allora io cioè confermo che avrebbero potuto non mettere il finale sì sì sono d'accordo sono assolutamente d'accordo fammi raggiungere fino al poco prima del cubo ma non mi fai entrare magari mi fai creare un salvataggio lì e poi quando lo metti arrivo sei dentro? sei dentro? yes almeno diamo un'occhiata al boss speriamo bene comunque cioè siamo andati via abbastanza easy è più che altro adesso questi qua ci seguiranno anche contro il boss o il boss ha un'arena sua? ma no non hai visto che appena siamo entrati dietro un angolino hanno smesso? eh no ma io ci sono andati dietro la musica? il boss a me è uno più grosso oh madonna che Kelvin? eh ma adesso è pieno di nemici gatto però vedi te l'ho detto sparagli sparagli ma è morto uno l'ho lanciato via ah oh madonna ma sto morendo tantissimo e gli sto sparando gatto più di quello e io mi devo curare fallo veloce è da me ma porca vaca ma tra tutti vieni da me vieni da me vabbè sto fucile carica ogni secondo Dio mio si ci mette veramente una vita mamma mia dove è andato? è andato via è sul soffitto non è sul soffitto? si è sul soffitto mamma mia come lo schivo questo attacco però? è morto fatto non ha dato niente vera me? lo possiamo carvare? si non so vai vai ma è andato un cazzo? dove li sei salito? aiuto un pezzettino di canone ah no 5 5 5 dai almeno almeno dai cambierà qualcosa? scusa ma il tizio che ha lanciato via fortissimo dove è finito? chi era? e boh e non c'è più e l'ha lanciato qui tipo ah lì verso di lì? si l'ho visto proprio però non c'è più quindi l'hanno lanciato nella lava in questo fiumiciatolo piccolo piccolo l'ho lanciato giù con pare gente a caso si si eh vai 3 2 1 siamo veramente entrati insieme però e qua c'è Timmy no? così lo rivediamo guarda così lo rivediamo che poi Timmy è arrivato prima di noi eh magari era quello che era stato lanciato no? e c'è il tipo argentato lì che non so adesso da me è entrato un altro che mi sa che è Kelvin eh Kelvin ma io ho anche la Marcuzzi esce di test che poi mi mostra il portatile così si si da muto su tutti i muti solo la musica così è un po' una merda e confermiamo che questa città non c'è tra un cazzo questa è Star Wars proprio si è veramente Star Wars e non è cambiato niente quindi Kelvin è una virginia perché non ha l'affinità massima con lei eh perché ci ho parlato sempre io eh si non le ho dato nulla io comunque vedi che lui fa qualcosa di specifico fa quel suo movimento dove fa l'inchino si vuol dire qualcosa? boh e questo è quello argentato chiunque esso sia si e fa questa cosa qua con la mano che faceva anche Timmy non so se hai visto si perché? cioè quanti dettagli di mistero ci sono? non è possibile da me la Marcuzzi a male a un fianco avrà un dolore intercostale ci sviene addosso con Kelvin che ha fatto uno sguardo veramente inquietante proviamo a rimanere sull'isola adesso vediamo che succede a questo punto si eccomi qua beh dai abbiamo anche beccato l'update con il boss si sta anche piovendo adesso dove sei? e sono qui Ghost Rider arrivo è che io avevo anche l'abbraccio con Marcuzzi da giù se io non c'ho niente eccoci qua allora torniamo ragazzi vuoi vedere una cosa buffa? si ma ti dovresti stare adesso spero ne sia valsa la pena no per niente c'è sta armatura di un NPCD e il del ringo mi fa troppo siamo i Ghost Rider siamo ma è diventata notte quando ho preso lo zaino scusa verissima questa cosa quanto ci ho messo a raccoglierlo ma che dici? e l'elicottero ancora? ma perché è successo questa cosa? se ne vanno se ne vanno ragazzi ci hanno aspettati e tu chi hai dentro l'elicottero tra l'altro? solo loro due padre e figlio e il pilota che hanno aspettato tutta la giornata per andarsene cioè tu capisci quanto male hanno fatto sta roba che tu arrivi di giorno e prendi le cose di notte ma che dici? con la luce della torcia sei di plastica oh madonna e ve a parte che sembri uno di The Purge adesso con la torcia cioè non sei più d'oro sei e quindi? e niente quindi continui e vivi la tua vita qua nell'isola va bene uila vuoi fare il duello? ti attacco fra 3, 2, 1 oia ah sto quasi morendo bastardo non ho colpi non ho colpi non ho colpi merda bastardo oh madonna chiudo il gioco se lo salva no bravo ho chiuso il gioco ma non salva tanto è vero è vero va bene ok è stato vabbè il finale è un macello vedremo fra un anno quando oh scusa tanto se ce l'abbiamo quanto ci vorrà secondo te madonna tra l'altro 34.000 giocatori in gioco avevano detto che ci voleva poco eh avevano detto che il gioco era praticamente finito poi qui hanno aggiunto new cave system added non so cosa cazzo voglio dire new survival room added to the bunker resident ah vedi ma hanno aggiunto anche roba per farti capire cose eh eh che cazzo vabbè è stata una bella avventura però mi è piaciuto finale meno sì sì alla fine è bello è comunque un gioco co-op che ce ne sono sempre pochi belli infatti ringrazio carim per quest'altra avventura assieme voi per la compagnia e allora buonanotte belli buonanotte ciao belli ciao ancora corde ci dobbiamo impiccare puoi stare in piedi ah sì sì vabbè ma mi gliccia la testa no che non posso stare in piedi cretino guarda dai vieni guarda che ti sei cucciato visto ecco qui non fa il culo va puoi stare in piedi o